buongiorno allora nuovo blog è da un bel pochino un blog comunque senza spoilerare niente ancora nella casa che ancora siamo in progress di sistemazione adesso andiamo in giardino che staremo tutto il giorno in giardino a metterlo a posto e ho comprato la piscina nuova per cui adesso andiamo andiamo giù comunque ho comprato questo qualche il cloro per la piscina poi questo che per coprire il sopra la piscina così meno non entrano mascherini non si sporca acqua e poi ovviamente tutto da sistemare e poi questo che il sotto che adesso dobbiamo mettere che è questo qua adesso dobbiamo posizionare a capire dove mettere la piscina dove si può mettere secondo me un po verso di qua questa è la piscina la mettiamo qua la monto e poi ve lo faccio vedere non sto lì a far vedere come si monta perché sto per morire di caldo poi non ho neanche preso il cavalletto comunque ma c'è la scaletta anche giusto in teoria sennò come sennò come cavolo faia dopo mezz'ora che abbiamo capito come si monta siamo riusciti sembrava più alta comunque invece è bassa adesso ci vuole almeno un'ora per riempirla tutta però diciamo che l'abbiamo messa qua non è piccola è bella grande e siamo ancora qua e già sto scherzando non siamo neanche a metà sono le quattro e mezza ora che riempiamo tutta questa piscina in cui dobbiamo anche mettere a posto il giardino metà il giardino perché ancora c'è da lavorare tutta questa parte anche qua tutto da mettere ancora a posto ovviamente è in progress perché stiamo ancora a mettere a posto stiamo lavorando ti ho fatto vedere le piante che ho piantato lì non mi ricordo comunque stanno crescendo le albicocche che sono queste albicocche piccoline e poi questa è la pianta di olive che è stata uscente quella lì ha due piante comunque sono dalle rocche rocche che stanno crescendo dalbicocche no, sono tesso albicocche? mi ricordo un po' più sì ah no, sono tesso sì, sì, ma comunque sono tesso quelle lì non albicocche ci sono fogli e abbiamo piantato questi due alberi qua questo è questo peccettino qui e voglio sistemare senza la casolina primamente sta facendo la piscina sono con l'ombrellone perché fa un caldo della madonna e non riesco a stare al sole dopo aver montato la piscina con 40 gradi e adesso finisco di rampirle e poi sistemo le altre cose in giardino beh, grande grande quello che sembra bassa da vedere non lo so non lo so non lo so ah la piscina è costata 120 euro 120 130 120 120 comunque 120 euro la piscina invece il telo sotto che abbiamo messo questo qua che è tutto sporco perché l'ho bagnato 20 euro il telo sotto da mettere sotto per non bucare la piscina e invece l'altro che dobbiamo coprire la piscina per far sì che non si sporca l'acqua abbiamo pagato 14 euro invece il cloro 11 euro qualcosa ovviamente sono quelli di olio e niente questo è il risultato ci vediamo dopo 7 e mezza questa è la situazione abbiamo finito di allora l'arco è momentaneamente l'ho lasciato lì però in teoria non penso proprio che lo lascio lì anche perché è storto tutto storto e questo abbiamo riempito tutta la piscina abbiamo messo il cloro ovviamente l'ho sporcato perché ha tagliato l'erba perché è intelligente e ho piantato l'uva questa è l'uva lì poi devo piantare un'altra cosa lì ho messo la terra e devo piantare un'altra cosa qui un'altra cosa qui ci sono i fiori le rose bianche e per finire i lamponi la pianta di lamponi che sta crescendo e mi ha già fatto i frutti e in tutto questo ho montato l'arco questo qua nuovo che è questo l'ho preso su amazon questo qua questo è quello nuovo perché è quello praticamente nuovo perché quello lì si è stortato allora l'ho fatto cambio adesso mettiamo a posto qua c'è ancora da mettere a posto perché qui le piestrelle dovremo mettere la sabbia sotto così non cresce l'erba mettere qua il tavolo ovviamente non di plastica qui metterò il tavolo con le sedie e il gazebo grande quella parte quel pezzettino di parte lì andrà qua le case di conigli le villette dei conigli di legno e invece da questa parte qua non lo so ancora lì metterò la griglia il barbecue si metterò il barbecue per fare la grigliata però quello quello di mattoni quello che non si rompe e poi qua vabbè fatto così c'è praticamente i due archi che però ancora è da sistemare come vedete l'erba è secca non so perché lì c'è la pianta di kiwi e forse da quella parte qui ci faremo l'orto non lo so ancora devo decidere lì metterò la casetta di legno con gli attrezzi e robe varie e poi non lo so datemi un'idea di come sistemarlo bene così almeno prendo spunto da voi comunque calcolate che in questo pezzettino qua andranno le quattro gabbie cinque gabbie dei conigli però sono grandi per cui calcolate che ci sarà il gazebo in questa parte qua comunque fatemi sapere qualche vostra idea su come abbellirlo ordinarlo ovviamente la rete è tutta da cambiare tutta la rete che vedete qua è tutta da cambiare e e niente per il momento la situazione è questa però abbiamo ancora la rete per sistemare dobbiamo sistemare tutto metterlo come si vede e questo e niente per il momento vi faccio vedere così ah non vi ho fatto vedere allora questo e quello sono le prugne però quest'anno l'albero non niente prugne quest'anno invece questo è l'albero di fichi questo è tutto il mio albero di fichi ce ne sono tanti ce ne è anche uno grosso questi qui questi sono tutti i miei fichi e e basta ovviamente qua c'è un deliro tutto da sistemare fa cagare comunque se avete consigli qui qualcosa di di bello è meglio così mi date qualche spunto qualche idea qua metterò le piastrelle che ancora ne ho poche però dovrò mettere le piastrelle in questo pezzettino qua perché devo chiudere quel buco perché qua passo al cancello e devo devo chiudere ovviamente lì come che si chiama il il cancelletto il cancello che parla e allora mi devo mettere la rete che fa questo pezzettino niente questo è il risultato poi quando farò altre cose vi aggiorno intanto devo capire cosa mettere qua e cosa mettere qui perché qui ci metto la pianta di rose rosse per cui faccio rose rosse e bianche così almeno quando crescono diventano alte si arrabbicano ed è più bello invece qua non ho ancora idea di cosa mettere e qua idem boh sono ancora indecisa o metto la pianta di limoni però sarà un po' difficile metterla lì dato che sono un po' indecisa comunque non penso che la metterò lì dopo aver fatto tutto sto macello perché ha sporcato adesso proviamo ad accendere la pompa un po' funziona un po' funziona però ma va così lenta aspetta che vi faccio vedere qua ok questa è la pompa che è il filtro praticamente sì come vedete qua è ancora da sistemare però per il momento sta andando non so se si vede prima la roba sotto e la roba sopra e dov'è che l'hai attaccata? in cantina ah comunque dato che ha sporcato la piscina perché come vedete l'ha sporcata non è normale ci vuole andare in cantina però l'acqua non è neanche fredda prima era freddissima adesso è abbastanza giusta copriamo? sì sì tuffati copriamo ah pensavo che volevi pensavo che volevi tuffarti comunque niente adesso la copro così non entrano altri insetti intanto che la pompetta va e niente vi aggiornerò vi farò sapere aspettate metto il copro la piscina e poi vi faccio vedere comunque pensavo meglio 20 euro di di questo telo qua per coprire la piscina che poi alla fine boh paura che si spacca come niente perché come vedete 20 euro eh cioè adesso vediamo se la la copre bene ma speriamo comunque se avete idee un po' messo a posto adesso quelle lì le devo buttare queste le butto e niente comunque se avete qualche idee qualcosa come decorazioni così carine fatemelo sapere perché ne ho bisogno calcolate che il prato non so perché è secco secondo me perché piove c'è troppo sole fa troppo caldo e allora si secca così troppo veloce comunque niente questa è la situazione e ci vediamo dentro in casa come si chiama come si chiama sa di pesce sa di pesce funghi perché allora a parte che mi sono ostionata bruciata cioè per farvi capire qua c'è un caldo là allucinante e ero sotto al sole perché giustamente nel mio giardino picchia tanto il sole specialmente c'è ta c'è sempre ovunque scusate ma mi da fastidio la televisione quando parlo perché sennò poi per copyright poi per copyright me la segnalano comunque mi sono bruciata anche sul braccio e siamo stati praticamente dalla una e mezza fino alle sette e mezza sotto il sole per montare la piscina per mettere l'acqua solo per mettere l'acqua più di due ore perché erano tanti era tanta da riempire più quasi un'ora per capire come si montava diciamo che è semplice a montarla non era tanto difficile però ovviamente essendo la prima volta non è che comunque niente vedete questo è il risultato che mi sono bruciata adesso arrivo perché così mi faccio la doccia sono le nove e mezza abbiamo mangiato e niente per cui non so quanto è durato questo video però dato che dopo un bel po' che non vlog non vi faccio vedere tante cose belle un vlog diciamo diverso un vlog carino allora ho deciso di continuare il vlog fino a domani oggi è sabato e domani è domenica magari dato che domani vado con i miei e con degli amici a mangiare fuori a mezzogiorno è praticamente una sagra una festa che si mangia il gnocco fritto eccetera se riesco vloggo ma spero di sì e vi faccio vedere dove siamo cosa mangiamo eccetera così almeno faccio un vlog più bello un vlog diverso dal solito che non sia tanto parlato e tanto meno farvi vedere sempre queste cose per cui ho deciso di fare così e spero che vi piacciono questi vlog gli altri allora l'ultimo che avete visto scusate ma era in ritardo pensavo di averlo già montato e caricato subito alla fine quando poi mi sono messa a lavorare ovviamente normale alla fine poi mi sono resa conto che quando ho acceso il computer ho detto cavolo questo questo vlog non l'ho convertito per poi dopo metterlo su youtube per cui quel vlog era molto vecchio dove io parlavo del lavoro eccetera questi sono i gatti che fanno casino infatti ho fatto ho trovato un altro posto di lavoro che questa volta è migliore uno perché gli orari sono decenti e due perché la domenica sono a casa e il sabato lavoro solo la mattina per cui ho sabato pomeriggio sera libero e domenica libera per cui posso vloggare posso registrare montare fare tutto invece il settimana è molto più difficile perché gli orari sono diciamo non dico pesanti ma lavorando quasi tutto il giorno è difficile comunque vabbè bene parlerò un altro video non voglio stare qua parlare parlare e per cui continuo il vlog domani che è domenica e vi porto con me così ne faccio un vlog più bello e tutti gli altri video che piano piano sto facendo scusate se certi video sono vecchi ma mi sono completamente dimenticata di pubblicarle di metterle su e di montarle per cui scusate se per caso vedete i vlog che non capita niente però piano piano vi aggiornerò ovviamente non c'è non registro come prima in senso che non vi faccio vedere tutto 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 quello che faccio prima lo facevo adesso molte cose non lo so sarà per perché ormai ci ho preso l'abitudine di non registrare come prima e di usare meno social cioè proprio usare proprio poco pochi social per cui sto meno attiva a confronto degli altri negli altri anni che ero più presente niente per cui vabbè su questa cosa poi ve ne parlo e ve lo dico nel prossimo vlog oppure un vlog ho parlato non lo so adesso vediamo niente detto questo ci vediamo domani che per me e domenica per voi è un vlog cioè lo vedete subito un po' che provo nella clip e basta adesso vi faccio vedere i due micetti che sono cresciuti un po' abbastanza sono diventati più lunghi diciamo molto lunghi però ho anche la faccia un po' cambiata perché piano piano stanno diventando grandi per cui adesso ve li faccio vedere e niente mi vado a fare la doccia e intanto noi ci vediamo domani perché così almeno non sarà non so neanche se questo vlog lo faccio durare tanto poco non lo so ma voglio fare un vlog molto carino diverso detto questo io vado scusate la mia faccia ma si lo so fa cagare non mi sono truccata sono rimasta con l'eyeliner mascara perché giustamente stamattino ho lavorato fino alla fino alle 12 e mezza e ovviamente non è che posso andare truccata decente allora mi sono solo truccata non ho messo niente in faccia poi quando sono arrivata a casa ovviamente sono poi ho mangiato e sono andata subito in giardino quasi tutto il giorno in giardino e questo è il risultato quando ti ostioni sotto il sole che c'erano quasi 40 gradi sì, probabile ma faceva un caldo allucinante va bene ci vediamo domani che è meglio ci vediamo ci vediamo! ci vediamo! ci vediamo! Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Colazione. Capossino. I cereali. Questo qua. Con la tazza di Kinder Ferrero. Ovviamente non ne ho. Però ogni tanto cambia tazza. E lui? Questo capossino di pannino conutile. Quella tazza lì è molto bella perché trasparente si vede quando la schiuma eccetera quando fai il cappuccino. Secondo me è troppo bellissimo. Comunque sono 9,46. Devo ancora prepararmi e uscire. A dopo. 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 A bei A dopo. A dopo. Aro Grazie. 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 Buongiorno. Sì. Era un po' scagazzato. Guarda che arriva, 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 arriva. Guarda, non c'è caro. Guarda, andiamo! Guarda che arriva. Va a r flavour. Guarda che! Guarda! Guarda che! Guarda che! Guarda! resta ok! Guarda le Carrera sia, che si f voulais教ati leaan. bello fresco fresco il culo ciao 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 mi piace vedere questa che ho fatto un becco bianco per lei si è fatta male zoppica e 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